Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 567 puntata di Eurotrax Monitor 2 Allora ragazzi, c'è stato qualche piccolo errore di percorso per cui abbiamo tipo un altro carico Abbiamo un altro giorno Però, tutto sommato, va bene Perché ho, diciamo, messo delle mod che mi hanno generato qualche problema Cioè, ho dovuto praticamente ritrovare un altro lavoro che mi portasse in questo posto E quindi nada, l'ho ritrovato, però ho un po' di tempo dopo Dovrei aver messo qualche mod bella, però al momento non mi sovviene quale Comunque ragazzi, guardate un po' che bello Ho aggiornato i driver della scheda video Quindi ora proverò a... ho chiesto aiuto allo sviluppatore Proverò un pochino a... a vedere se anche con l'altra grafica, diciamo, riesco Oppure mi si blocca ancora Perché, appunto, ho dei problemi con l'altra grafica Non so se ve l'avevo detto E... niente Perfetto Tra l'altro, ora mi viene in mente che... Mi ero segnato due cose da dire in questa puntata, non me le ricordo più Va bene ragazzi Cioè, comunque, nel caso ogni tanto vediate che tipo... Io faccio così, metto il manettino per sbaglio È perché io ho due tasti vicini Ah, anche oggi niente webcam perché... Sera ragazzi Sono tipo le sei... Le sei un quarto, dato che è cambiata l'ora È come se fossero le sette un quarto Quindi buissimo E... Cioè Lo faccio perché è un tasto vicino Quindi mi sbaglio schiacciandolo, ecco Nella realtà non potrebbe mai succedere Giusto per dirvi un attimo Eh, perché nella realtà se tiri il manettino mentre vai è un po' un problema Io l'ho fatto Mi ricordo Mi è stato raccontato perché io non me lo ricordo Ero sul camion con mio papà E... Eravamo in un incrocio E io ho tirato il manettino A quanto pare andavamo piano Non è successo niente Perché il manettino dello Scania blocca tutte le ruote del camion E quindi è anche meno pericoloso È più sicuro Però quando devi frenare E frenano tutte le ruote È meno pericoloso perché... Non frena solo dietro, insomma Che cavolo è Pensavo fosse la Tector fatta così Invece è proprio un buco Wow Sembrava un dosso più che un buco Vabbè Vabbè, andiamo, dai E... Quindi l'ho fatto Però... Insomma Non andrebbe fatto Io non è che dico l'ho fatto Sono contento di averlo fatto Tra l'altro sto un attimino girando il tracchier Per vedere come La tenere meglio Scusate, ho dovuto star notire Non so se avete notato l'improvviso TUM Come se avessi picchiato una testata contro il vetro Faccio E CHU E sono venuto avanti Ok, faccio un mega discesone a quanto pare Quindi vediamo un pochino di fare un po' di eco drive Qua non so se ci sia scritto Però va bene Ah, là c'è un semaforo Ok, perfetto Detarda, engine brake Per il motore, anche detto E poi dato che non c'è nessuno Passiamo Sì, vabbè Non avevamo nessuno di qua, ragazzi Sti semafori sono un po' da ridere Anche in realtà Non si è obbligato a fermarti Ok, in realtà sì Però Non volendo puoi anche fare così Buongiorno Forse sono arrivato un pochino veloce Devo usare il retardo Effettivamente sì Comunque ragazzi Io ho configurato un R Sì, ciao R Oggi Cioè, il prossimo camion Andiamo per l'old school Ma proprio vero old school Ovvero un 143M ragazzi 450 Nada EDC Questa strada non mi piace Cioè, mi piace perché è bellissima Ma non mi piace del tipo La vedo brutta avanti La prevedo brutta Però noi abbiamo una motrice Ragazzi, possiamo fare delle curve così Che non c'è quella Tanto Allora, magari se vorrò avanti Era me Pianino, pianino Io devo andare là Oh, non so Sì, sto corriendo un po' troppo Forse Per fare una strada Del genere Vediamoci qua Vedete il bello Posso stringere quanto voglio Che il rimorchio mi segue Forse il billico Non mi segue Assolutamente Così tanto Quindi ora Vediamo un pochino C'è il posticino Da fermarsi Magari mi fermo A fare due foto Cos'è il punto Da fermarsi Mi sembra sotto il punto Però deve essere tipo qui a destra Posso entrarci Io con una motrice Qua lì Non c'è Qua c'è un pochino Collision Sbagliata Perché In realtà La pietra Non mi sarebbe Contro Tanto Però Vabbè Fa niente Quanto pare Vuole farmi Girare un pochino Le scatole E quindi Mi ci fai stare contro Fosse Essermi allargato Un po' di più Sì vabbè Io faccio manovra Tutti qui Mi passano ovunque Non mi avrebbe aiutato Però poi In realtà Ci passerei così Sicuro Infatti ci è passato Cavolo dove mi sono Andato a filare Però è un bel posto Qui Fare una fotina Facciamo che arriva il mare Non so quale Se mare del nord Mare di Parence Non so Ma che mare sia Però fa niente È molto bello Come fottigenico Il mio camion Perché È molto bello E È bello anche il posto Quindi facciamo Una bella fotina Eccolo qua Pausa Che dobbiamo farla Beh direi di farla adesso Quindi facciamo venire Le 8.2 circa Vedete Lì che mi teletrasportavo Per trovare i rimorchi Ok 45 minuti E ora ripartiamo Ci allargiamo Un pochettino Forse era da allargarsi Ancora un po' Ah Non Non ve l'ho detto Sì Tutte pietre Hanno una collisione Sbagliata Non so se ve l'avevo No Non ve l'avevo detto Ma comunque Appena avevo configurato Questo camion Prima di iniziare Il viaggio Avevo Avevo regolato bene Tutti gli specchi Perché Ho detto Nel caso mi servano Che sono strade brutte Li avevo regolati Tutti bene E precisi Come mi sembrava Più corretto Per me Che non li regolo Quasi mai Gli specchi Sul camion Su questo Lo regolate E dai Se c'è una cosa Che mi dà fastidio È quando Ci passeresti Ma la collision Non ti ci fa passare Aspettiamo Che il Mercedes Sla Dai Cosa c'è scritto Pericolo No aspetta Il camion La strettoia Tra 40 metri Ok 40.200 Cosa sono? 200 metri Forse E 40? Strettoia di 40 4 centime No Cosa sto dicendo? Qua c'è tipo Le impronte Sono al centro Della strada Non mi sembra tanto Guardate un po' Che bel paesaggio Ma chi ve li trova Ragazzi di paesaggi così Qualcuno Nelle scorse puntate Mi aveva detto Dan Fai sempre vedere Gli stessi paesaggi Non che non mi piacciono Comunque Non era una critica E guardate Dove vi ho portato Ma chi vi parla Di questi posti Chi di voi Non conosceva Sto posto Me lo faccio Saperne i commenti E chi di voi Lo conosceva Me lo faccio sapere Lo stesso Ma è veramente Un bel posto Queste sono le strade Che io volevo Che volevo le strade Stile Norvegia Qui ci siamo Molto abbastanza Diciamo E mi piace molto Sto stile Dover prendere le curve È un pochino rischiose Cioè Doverle prendere rischiose È una strada rischiosa Non come essere in autostrada Devi essere sempre pronto E secondo me È molto più bello Fare di queste strade Che di autostrada Perfetto Qua cosa devo fare Niente È un ponte Un ponte che sembra Quanto brutto Ventrare Immaginatevi qui Con la moda del traffico Era impraticabile Stasera Caponord 129 km C'è la radio Cioè Anche questi posti qui Magari È poco Può sembrare poco Però Veramente a me Mi piace Il prossimo garage Ragazzi Posso prendere Si può prendere Il garage A earning Qua Sì Ragazzi Prossima carriera Prendiamo il garage A earning Lai Caponord Tutte le volte Per testare i cam Guarda quello lì Che mette giù la barca Tutte le volte Per testare i cam Il primo giro Oh C'è qualche scufo Rimano C'è Mercedes Sarà questa la strada Da fare Con ogni cam Dovremmo fare Questa strada Se non supera il test E queste sono strade Da fare con Scania Invecco Ehi Scania Volvo Che feco Scusa Scusa Volvo Non volevo Sbagliarti con l'invecco Guardate che strade Non stiamo andando fortissimi Adesso Siamo ai 50 all'ora Adesso siamo a un po' di più Perché ho accelerato Siamo ai circa 60 Bisogna farle piano Comunque queste strade Quanto ci manca? Un'ora e nove Anche questo È pieno di danni Perché mentre mi teletrasporto Sbaglio qualcosa Cosa faccio da anni Ma cos'è sta roba? Ah Un tipo un bosso Sembrerebbe Bello 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 Lampeggiamo anche Guarda questo Dove so il passo Guarda questo Cambio manuale La miglior scelta Che io abbia mai fatto Per questo cambio Che me lo riesco a godere Al 100% In questo modo Forse con l'automatico Me lo godevo ancora di più Però Metti cazzo Che lui sbagliava In questo posto L'ho già visto Che c'è una strada Che gira di là O forse No Non ci può L'ho visto In realtà Qui da me c'è una galleria Che è tipo simile Che volendo puoi aggirarla C'è qui da me Non tanto vicino Però L'ho già vista Nella realtà Diciamo Piano 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 Ok via restarda Via freno motore E lasciamo andare il cavio Mettendoci la quinta Ricordate Ragazzi Il prossimo garage Lo compriamo A quel piano Qua Qui è veramente brutto Questo pezzo Che gira così Gira così Qua se esce I pullman Che escono fuori mano Qua sarebbe la cosa Peggiore da incontrare Vi immaginate fare una strada Del genere Con gente seria In multiplayer È il top Se ci fosse una cosa Del tipo multiplayer Con gente seria Probabilmente Per tanta gente Cioè non così Che nel multiplayer Trovi due tre persone Ogni tanto Che trovi Diciamo come il traffico Cioè se ci fosse una cosa Del tipo Eurotrack Che tutti quelli Che giocano ad Eurotrack Giocassero in multiplayer Ovviamente giocassero bene Io Probabilmente Rinuncerei alle mie mod E a giocare in E giocare un pochino In multiplayer Giusto un pochettino Per vedere com'è Cioè Sarebbe bello Diciamo fare una specie Di realismo Essendo in multiplayer Anche senza mod Diciamo Vabbè quello lì Sarebbe un po' Il brutto per me Oramai come ci sono abituato Comunque No Qui diventa Erarga La strada Vabbè Cambio Cosa mi dice Qua cosa mi dice Pericolo di cosa Capire le sue cartelle Foghi in dettanto Ah c'è nebbia nel tunnel Tranquillo Io c'ho Guarda questo Dove supera Io c'ho dei mega bagliantoni Che abbaglio Fino questo qui davanti Verrata un po' Sì che poi Ci apparescia Ci apparescia Di sorpassarmi Per mettersi Davanti Non andare Cioè io Avrei già accelerato Da Ben Ben Per Sfruttare la discesa E prendere la salita Diciamo Abbastanza in velocità Ma questo qui Non me l'ha fatto fare Guarda che comunque Non era una salita Tanto duro Comunque abbiamo Un 70 C'è la gente che ti supera Poi se ti si mette davanti Non va Nervoso 4400 metri Non possiamo mostrare Magari Magari Ehm Aspetta Piano più Qui vedo che c'è un incrocio Non si sa mai Gli incroci Conviene sempre ralentare un po' Oh Onnings Vag E' esplorata Conviene sempre un po' E' rallentare Entriamo qua Ragazzi Ora ci fermiamo E guardate che Paesaggio stupendo Siamo Sul mare Con Il porto là in fondo Passiamo a crearlo Perché poi per ripartire Ci servirà Il paesino lì in cima Le montagne di qua Ora voglio andare Anche a esplorare La stat oil Ma Mettiamoci in prima Così andiamo con calma Perfetto Vabbè andai a esplorare Qui la stat oil Ah Vabbè Non mi torna prima Allora Rimettimi Mi tornerebbe utile Grazie Un'esplorazione Completa Facciamo Di queste zone Vedete Queste stradine qua Sono belle Vi immaginate farle in due Devi essere bravo Magari a costarti Senza andare giù Ovviamente Tocare in modo realistico Ci serve tantissimo Non si capisce Questa diga Ah no Non è una diga Io capisco anche che Qui c'è la stat oil C'è una diga Ma Vagia bene Che sono venuto Con una motrice Potevo sicuramente Tenermi più largo Però Sono venuto con una motrice Che ci giro Con un bilico qui Se ci arrivavo così Non ci giravo neanche Se piangevo Non neanche Neanche a piangere Dove essere bello Tu puoi andare anche su di lì Vi farò un pochino A vedere qua Qua Su di qui Piange a venirci Sia perché è stretto Sia perché è tornante In salita Chiude tantissimo No guardate Sta glitando così Questo poi arrivi qui C'è la neve Voglio giù Che bello che deve essere Non è Che erano questi posti Ma ce la facciano fare Una cosa del genere Per non mi intragge Qualse è il mio marchio lì Proprio questo Infatti Non mi intragge Infatti La carrella è alzato Quindi abbiamo Tutta la pressione Tutto il carico Sopra il L'asse motrice E ora ci resta Che salire L'aurotrack Non ti bloccare Adesso Siamo proprio Nella parte più bella No E ce l'abbiamo Fatta bene A salire Una mappa Tutta così Ve la immaginate Io sì Stupenda Solo questo Ora lì Sono passato Anche abbastanza Spedito Perché sapevo Di passarci Dato che prima Ce l'ho passato E mi è allargato Di meno Però deve essere Veramente bella Girare su queste strade Bello 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 Mi piace sempre di più Sti posti Andiamo a scaricare Anzi no Andiamo a capo nord Poi andiamo a scaricare Facciamo tutto oggi Ma sì Aspetta Qui devo dare la precedenza A chi? Ah beh Più avanti Infatti dicevo Boh Da di qua Dove si va Scusa un attimo Che sono curioso Ah no Beh vedi Io devo andare Prima su di qua Cioè pensate un po' Andare su di qua Sulla destra Che strada Con un camion Probabilmente ce l'ha a fare Perché se siamo riusciti A passare di là Giusto una curiosità Quanto costa il video qua 1.46 Qua si entra a comprare il garage Cosa dite Lo compriamo Ma sì Già che ci siamo Di là dove si va Penso che la strada Lì finisca Da qualche parte Ora quando compriamo garage Utirici la panoramica Ce lo dovrebbe anche farmi No Ti lascio acceso Sì voglio acquistarlo Grazie Una panoramica Per farmi vedere Il Deve va di là Allora ho capito E' un peccato Questa strada Che mi interrompono Una cosa che Sarebbe bello Esplorare Magari Alla fine Si che si interrompono Ma farlo interrompere bene Sarebbe bello Perché non si deve aprire Piace Poi non ho fatto tanto In tutta sta strada Mi metto a farlo Al garage Perché non mi si è aperto Il portone Cioè La collisione non si è aperta Perché lui si era aperto Ah ci passa anche il traffico In sta strada Bello Allora noi dobbiamo andare A destra Andiamo Fino al punto più alto In teoria Andabile 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 Vabbè poi c'è il polo nord Però capo nord In teoria è Sul continente Può andare proprio al polo nord C'è la neve Suorotrack Perché spingo tanto Cioè accelerò Per poi mettere il freno motore Bello Guardate qua Che Che paesaggio Ragazzi Qua volendo Si ci può fare Si può fare relative Prima usavo moltissimo Il retarder E praticamente niente Il freno motore Non è il contrario Uso molto più il freno motore Perché è più istantaneo Il retarder anche in realtà Devi aspettare che disiattivi Cioè che vada in circolo l'olio Prima Aspetta Che è qui dove cavolo Potrò andare Nord cap 13 km Bene Di là dove si va? Ah in quelle stradine In quelle casettine Ok Facciamo così la pausa La facciamo qui Già Mi sono fermato DL 12.2 12.4 12.5 Perfetto Che poi in questa strada Non ci devono disturbare Niente perché È da mesi che aspetto di farla Questa strada Tira tanto sulla destra Il volante Questa strada Non so se magari è la strada O in pendenza Sulla destra No forse non mi ha impresso Guardate un po' Motore Euro 6.000 giri Come se sale Vedi E che dietro abbiamo Solo dietro 150 Raggiunge i 1.100 giri E non scende più DL 1.120 giri E non scende più DL Cioè guardate Chi lo fa scendere sotto il 1.100 Nessuno Non è che se paghi Lui ci scende È un 5.80 Ragazzi Cosa si vuole Sono motori Questi qui Altro che i 6 cilindri Beh ovviamente qua Si vede che È dritta Quindi dovremo scalare Sicuramente Però Ci sta anche Perché Se fosse monomarcia Non ha neanche tanto senso Ed eccoci Arrivati Dietro Che sinceramente Non so Cosa mi vengono a fare Il mio mancino Però A parte che io con un camion Non so cosa ci siamo Tanto venuto a fare A guardare Cosa vuoi che sono venuto a fare Allora Piano piano Signora macchina Voi andate piano Con calma Che C'è posto per tutti Allora Dov'è quel posto bello Che vedevo le foto Che facevano Ho già visto qualche foto Info center Center con la S Però non era qua Nord Nord K La macchina Io mi metterei qui un attimino E lasciare passare Andando di qua No Non era Di qua Io vedevo le foto Che facevano Che Sarà di L'unico posto dove Siamo andare C'è anche il cartello Salve Io taglio un pochino Qui in mezzo Non c'è nessuno Sì Penso che sei di qua Sì Vedete C'è una stradina È qua Credo Non vorrei L'armi incastrare Penso che sei di qua Sì È qua È qua Lo riconosco Il posto Tutte ste pietroline Non vorrei Mi facci solo saltare Ma non fanno saltare Andiamo a fare la foto Col camion Tutti questi che sfanno I selfie Le foto A mano Noi ci andiamo Col camion Queste cose di burro Non sono tanto belle Però fa niente Cioè ragazzi Guardate un po' Facciamo una foto Ok Adesso ce la facciamo Mettiamo il camion In pool Qua così E ci facciamo Un'altra fotchina Del tipo Così E ora possiamo andare A scaricare Che siamo a mezz'ora Di puntata Qua ci passiamo In mezzo Tutta sta gente Sì Salve Buongiorno Vorrei passarvi In mezzo Quasi quasi vorrei Invest Salve signora Qua La guardia Cos'è fa questo? Ma vedi ciò Questa sta combinando La guardia Ha investito A poza Salve signora la guardia Scusi ma devo passare O ma neanche se voglio Risco investirla Ha volzato più a sbaglio Il carrello Ora l'ho abbassato Del rimorchio Dobbiamo andare a scaricare Alla Boyers Non lasciamo tutto sulle lunghe Tanto dovremmo riuscire A chiamare Che spessone ce la facciamo Passiamo pure il carrello E allora non avremo più Non fare niente Come partenza Bella questa gita ragazzi Non siamo alla fine Ce ne manca ancora un bel pistino Diciamo Abbiamo fatto da fare Ancora qualche giro Retarder Retarder Frenovotore Frenovotore Ora sentite Eccolo Che ha scaricato Il frenovotore Piano però Il retarder ovviamente È molto più potente Alle alte velocità Mezzo serbatoio Abbiamo fatto andare Per 920 km E tiene 1.4 Pensate quanto consumiamo In questa strada Ne ha falso tantissimo La pena Ragazzi Per me Ma poi siamo arrivati In fondo E vabbè Perca di tagliare Un pochino la cura Ma da dove ne arrivano questi Ralentiamo Che qua c'era il Il cosino Il dosso E anche questa L'abbiamo fatta Sono ben ben contento Andiamo a scaricare E domani È un altro viaggio Un'altra storia Un'altra È tutta un'altra cosa Eh sì C'è un altro viaggio Un'altra Insomma È sempre una cosa diversa E appistate un po' Che Noi abbiamo Gognato tipo 67.000 euro Per fare questo viaggio Bellissimo D'ora in poi ragazzi Cercherò di non andare più Negli stessi posti Perché guardate un po' A variare Cosa si trova Io sempre Negli stessi posti Va bene che sono belli Ma anche variando Guardate che bei posti Questo penso sia la strada La mia strada preferita Sulla promota Cioè questo Zona Perché comunque Non è che questa qui È più bella di quell'altra Come zona Diciamo Anche come ambientazione Tutto quanto Prima era l'Islanda Che era curata così bene Ora hanno fatto Questo update E questo Gasolio direi Che non ne facciamo Qua Perché dovremmo riuscire Alla Ancora fino un po' Perfetto 80 all'ora Forse stiamo anche qua In un mount Tutto troppo Aspetta Io vorrei andare qua sotto Giusto per sfizio Ancora vedere cosa c'è qua Giusto per passarci di misura No ha aperto la map Perché ma ha fatto il sonno Di un garage Ah c'è l'officina Bene Allora c'è Giustiamo il camion Zona 30 Zone Ma perché qui Tipo l'inglese Si legge Come Non lo germano In italiano Tipo Zona Si legge Zone E qua Se l'hanno scritto S Se ove ne Allora lì non è E lì qua Credo di sì Bestia che posto Ma si entra anche di là Ne No Giusto per No perché qui Far retromarte C'è da piangere Forse lasciare i morchi In un altro posto Non sarebbe stata una brutta idea No si entra anche di qui Però Si entra diciamo Come Eh Vedi Si può passare anche di lì Questo è l'unico mo Sì va bene Si spegne In primo Passiamo a carrello E diciamo un po' di Entrata forzata Questa Dove tocca Deve aver Tipo caduto E toccato da qualche parte Perché Non deve toccare da nessuna parte Teoricamente Ripariamo il camion E andiamocene Eh sì Ora girata di qui Faccio proprio la croce sopra Grande quanto Il camion Perché non ce la farò mai A girare lì Forse solo con la motrice Ce la farei Ma Motrice a rimorchi Ho mai nella vita E quindi Facciamo la stradina Che abbiamo fatto per arrivare 35 minuti di puntata Siamo qua Sì ragazzi Spero che non mi venga A bezzare più di tanto Qui è potuto uscire così Tutto contro mano Norgis E c'è anche l'ospedale A 4 km Ben organizzati in sti posti Qua cosa c'è scritto SOS No Che cosa Turni Sfagioni Lì è dove siamo Dove eravamo un momento fa Qui ci sono un po' di macchine Parcheggiate La cavolo Ah si poteva anche andare qua Forse No non si poteva Sì dove cavolo Io mi guardo RESTORANTE Mi guardo in giro giustamente Perché sono dei posti belli E faccio qualche dannetto L'hotel lo guardiamo così Perché Immagino non ci sia niente di speciale Se mai dopo Ci andiamo solo con la motrice Che magari scalare Non sarebbe Ops Beh stai anche qui Che posto Ovviamente non sono accelerato In modo Ora non sono Ehm Dove lo vuoi? Io sono tanto amico tuo Sono bravo E quanto vuoi Però Mettertelo lì È un'impresa Molto impresario Molto impresario Allora Cominciamo buttandolo Tutto di là Allora Dov'è che non lo vede? Guarda come lo butto Tutto di là Perfetto Se non ci fossero Se non ci fossero ste macchine Sarebbe più facile Però vabbè no Ci sono i parcheggi Significa che gli altri Tutti ce la fanno farlo Anche con le macchine Quindi ce la dobbiamo fare In effetti Facciamo così Cosa che si può farne In realtà Questa di chiuderlo così Cosa che invece Con semi rimorchio È pericoloso Farlo Con rimorchio è fattibile Ci vuole un po' di bravura Ovviamente non devi avere il peso Caricato tutto davanti Però è fattibile Poi devo fare manovra Verso il lato In cui C'è lo specchio Perciò non mi piace Allora Cominciamo Prendendoci belli larghi Belli dritti E poi cerchiamo di andare indietro Meglio che possiamo Rimorchio ce l'ho qua Devo mandarle là Tipo questo Più o meno Di qui non vedo neanche Dove è rimorchio Figurati se vedo lo spot Dove devo metterlo Ok Rimorchio dove è la Michelin Ora lo vedo Quale tipo Sarà lì indietro Senza accelerare No Riprendiamoci Per cui L'ho messo Cioè Ho sterzato troppo Ed è andato storico Ci riprendiamo Ci ha bloccato il gioco E mi è Si è incastrato tutto Scusate un attimo Dato che Da quello specchio Non si ci vede Fatemi un attimo Guardare dove lo vuole Ah lo vuole lì Ok Buona saperse Se avevano due mani Per girare Ho dezoomato Per un attimo Oh pretende anche il timone dritto Adesso sto qua Già che gliel'ho messo così Doveva ringraziarmi Mettergli anche il timone dritto È una parola Perché era perfetto Per mettergli il timone dritto Già Ho sterzato troppo Devo starmene in là Per poi girare in qua Troppo Oh ma cos'è che Giro Sterzo sempre troppo Ok No Non c'è niente da fare Ho sterzato troppo Vediamo riprendere Ok Così E per mettergli anche il timone dritto È difficile Ah ma il muso Riesco a metterlo lì volendo Allora tutto questo Sempre più confuso Comunque è resta il fatto Che è difficile Metterlo lì Ok Ora mandiamolo in là Così E guardiamo se riusciamo a mettere il muso Lì dove vi traccio il vedore Non ti va bene così Comunque Dai Fatelo andare bene Sì Gli va bene Mostra adesso i risultati Continuo 40 minuti di puntata Anche oggi Che miseria Oh però Ora Ci tengo anche a farvi vedere Come l'ho messo Facciamo una pausa Qui Ora Con calma la faccio E guardate come ve l'ho messo Non è arrivata avanti alla porta Con quello lì Proprio è messo nel modo più sbagliato Eh Un semirimorchio Ce lo mettevi al volo Questo è già più difficile Da metterci Poi voleva anche il timone dritto Quindi Dai andiamo là Che mettiamo Guardiamo anche come è fatto il L'hotel E via Che ora mi devo fermare? 16.52 Sono i 28 Mica di qua no? No 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 ha aperto la mappa Sbagliato Sbagliato Invece anche a piove Un parcheggio però Per me Questo lo chiami hotel Qua No Sì ma io sono entrato qui Sì ma io sono entrato qui Per Volevo Sì Sto collision Delle pietre Perché cercavo un parquet Boh io lo butto qua Voglio vedere se avessi avuto Il semi Rimorchio O anche il bilico Come ci stavo qua Comunque ci siamo stati Forse E se mi hai messo di lì Sarebbe stato meglio O comunque da qualche parte Va bene ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Facciamo venire già Le circa 5 di domattina Che almeno poi partiremo Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Da Da tutto Abbiamo girato tutto questo Proprio tutto il 100% O no Forse No vabbè La marina l'abbiamo lasciata Sarà per domani Ciao a tutti